Purtroppo, quando finiscono gli anni, purtroppo, quando finiscono anni di questo tipo qua, uno vorrebbe che il tempo si fermasse perché vorrebbe che il gruppo fosse sempre lo stesso, più o meno, ecco, più o meno, e invece purtroppo, ragazzi, la vita va avanti e bisognerà fare delle scelte, però al di là di tutto, io, come ho fatto con tutti i giocatori che ho avuto nel mio passato, vi ricorderò sempre tutti con grande amore, perché io mi voglio veramente bene, perché voi avete dato tanto, mi avete dato tanto e l'avete fatto col cuore, va bene? Bene. È stata una bella annata, grazie al mister, grazie al Rocco, grazie ad Antonio, grazie alla società, grazie a tutti voi, a Maurizio, a Maurizio è là. Purtroppo, dico purtroppo, il calcio è fatto in questo modo, il mio ruolo è un po' un ruolo, un po' di calcio, purtroppo ci saranno gli azioni, ci sarà chi resta, ma purtroppo il calcio è questo. Allora ragazzi, che dire, è stato un mese e mezzo molto particolare, nel senso che in questo mese e mezzo ho pensato molto e soprattutto bene a quello che è il mio futuro e a quello che volevo fare. Dopo un percorso di un anno o meglio di due anni, a parte appunto l'anno che poi non si è più concluso via del Covid, non potevo che non prendere in considerazione appunto l'idea di ritornare in un secondo anno sempre qui all'MSP. Non nascondo che ho avuto anche altre proposte e altre offerte da parte di altre squadre, di altre società, ci ho pensato bene a lungo e a fondo e alla fine ho deciso di rimanere e sposare per un altro anno il progetto MSP. Sono andato appunto a parlare con il direttore sportivo dell'MSP e mi ha spiegato appunto il progetto del prossimo anno e quello che sono un po' gli obiettivi che magari in un secondo momento vi andrò a spiegare anche proprio meglio. E quindi ho parlato con lui, ho spiegato un po', abbiamo parlato a lungo, ho spiegato anche io, avevo comunque sia delle richieste da farli e le mie richieste sono state diciamo accettate e quindi alla fine si è deciso di comune accordo di continuare questa magnifica esperienza qui all'MSP. Detto questo ragazzuoli, adesso ci saranno altre novità che presto vedrete sul canale perché non finiscono qua le sorprese e in un futuro chissà, in realtà non in un futuro chissà, ma chissà se quest'anno che arriverà intraprenderò solo la carriera come calciatore o anche addirittura come allenatore. Grazie! 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 Grazie!